Eccoci, Monti, aggiornamento importante sul mio progetto NFT che esce il 2-2-22 alle 2. Ci piaceva questo 2, mi sembrava una buona combinazione. C'è un po' di dolorino qua alla spalla perché il mio trainer ieri mi ha fatto fare i pull-ups ed ero lì, quanto ne fai tu di pull-ups che ti tiri su così, petto in su, petto in su. Poi mi ha fatto vedere CrossFit che ne fanno 150.000 in continuazione, però hanno la tecnica un po' così ed è una tecnica anche qua nel mondo dell'NFT ti è un Far West, quindi ricordati, ricordati, se trovi qualcosa in vendita prima del 2-22 alle 2 non siamo noi, è una truffa, è pieno di bastardi, è pieno di Far West impostato là fuori di gente che sta cercando di craccarmi i profili social, entrarmi nella mail, sono un mondo di figli d'androchia in continuazione, quindi fai attenzione, se trovi qualche cosa in vendita non siamo noi prima del 2-22, prima del 2 febbraio alle 2 noi non vediamo niente. a meno che, e adesso ti dico, c'è una giornata di prevendita che riserviamo a chi si è registrato nella newsletter e a un paio di community partner di questo progetto, se no non siamo noi. Quindi segui marcomontemagno.com per avere tutte le informazioni, registrati su marcomontemagno.com entro mezzogiorno questa domenica perché poi chiudiamo la lista e soltanto a quelli che si sono registrati diamo la possibilità di avere un accesso prioritario che permetterà di comprare il mio NFT in anticipo dalle 5 del 1 febbraio. Per cui ti registri su marcomontemagno.com per ringraziarti della fiducia perché comunque è un gesto che personalmente apprezzo molto, ti diamo una sorta di speedyboarding che puoi comprare in anticipo e tu sei sicuro di non restare fuori. Questa è l'idea. L'altro beneficio che diamo, però fai sempre una verifica anche su la newsletter, un altro social, io sarò sempre presente a dare comunicazioni, non mando messaggi in privato chiedendoti del grano, guarda i vari progetti che magari prendono il mio faccione, copiano delle immagini, cercano di scammare, controlla che sia il monti ufficiale. Pelato ufficiale sono io, controlli marcomontemagno.com, controlli la newsletter, fai una verifica, io sono su Facebook, YouTube, Twitter, sono ovunque e quindi controlli i miei profili ufficiali, doppia verifica e sai che stai andando bene. Fai attenzione mi raccomando perché è facile perdere il grano in questo far west. Dall'altro lato abbiamo previsto per due partner, The Nemesis e NFT Magazine, uno sconto del 20% e anche loro possono acquistare dalle 17 del 9 febbraio, ma visto che abbiamo collaborato per questa produzione e comunicazione del mio NFT, abbiamo previsto uno sconto grazie del 20%, per cui se hai NFT Magazine, vai a vedere il progetto NFT Magazine, abbiamo fatto anche un'intervista un po' di tempo fa, o se hai un companion di The Nemesis, piattaforma fighissima di Metaverse, ho chiacchierato anche con Ale, trovi un po' di video che abbiamo fatto insieme sul tema Metaverse e non solo, a questo punto hai sconto 20%, which is good and better than Dudit in the OCH. Dopodiché che cosa volevo dirvi? Organizziamo un NFT Day l'1 febbraio, proprio per parlare di questi argomenti. Da un lato per fare un ripassino delle basi, per chi magari fa fatica a approcciare questo mondo che non è un mondo facile, come si sta muovendo il mercato, quali investimenti ci sono, quali sono i principali usi degli NFT. Questa maratona la facciamo in collaborazione con Young Platform e cerchiamo di avere un po' di ospiti interessanti, avremo anche Giovanni Motta che ha ideato il concept artistico dei miei NFT e so much more. In più vorremmo annunciare anche un paio di sorpresine su cui stiamo lavorando in questi giorni che non posso ancora dire, ma vorrei tanto dire. Vediamo se riusciamo a annunciarle entro l'uno, ma veniamo al prezzo. Domanda, ma quanto costa questo NFT, Monti? Ho chiesto ai miei. Allora ragazzi, quanto canta l'NFT che vendiamo? E io già mi aspettavo. Monti, tipo, hai presente nel bordei 754 triliardi che ognuna costa, non so, 500.000 euro, 300.000 dollari, ognuna ha delle cifre così. E mi aspettavo già, capito? Mi luccicava già la pelata. È l'in 0.08 ITER. Ragazzi, ma forse avete sbagliato gli 0, ci avete messo uno 0, come 0,8 ITER? No, 0.08 ITER, che al calcolo odierno, fatemi fare un price calculator, 0.08 ITER sono 190.99 dollari. Una tristezza, però, insomma, questo è il prezzo, un prezzo accessibile. Non sto qui a farvi la lista della spesa, fatela voi, fatela voi, la lista della spesa classica che si fa in questi casi per convincere l'acquisto. Eh sì, ma qual è il valore che c'hai? A prescindere da tutto. Oggi uno, cosa si porta a casa? Fa il calcolo dei vari benefici bonus, l'evento per tre anni, la colmensile, gli sconti, competenze for books, quanto vale il cumulato di quel pacchettino lì già oggi? Fai i calcoli tu, insomma, e valuti se è una roba che ti interessa o meno. Ricordati, aspetto importante, che quando venderemo su OpenSea ci sono queste diavolo di gas fee. Quindi ricordi che oltre a questo prezzo ci avrai più le gas fee, che sono il costo della infrastruttura Ethereum che va pagato non lo guadagno io, semplicemente l'infrastruttura costa così. C'è una tassa da pagare e quindi la tassa poi sarà più o meno cara in base a quali parametri di questo diavolo di crypto world. Però ricordati, quindi hai l'importo 0.08 più le gas fee bocca al lupo. Insomma, non so quanto saranno quelle, però insomma speriamo che non siano altissime. Ok, penso di aver detto tutto. Fine dell'aggiornamento. Quello che voglio dire è che sembra di essere sulle montagne russe senza nessun tipo di roba che ti chiude. Sei lì che giri in questo modo di NFT. È un modo parallelo che da un lato è super interessante, piena opportunità e dall'altro c'ha mille problemi, mille casini. Però è una tecnologia assolutamente ossigenante. Ecco, per chi ha voglia di fare cose nuove, pensando ai prossimi anni e pensando Monti, nei prossimi anni cosa combinerà? Ecco, questo è il modo giusto di fare il viaggio con me, se vuoi partecipare. Se invece ti interessa solo speculare, fare il grano così, non prendere il mio NFT. Non muore nessuno. Se invece sei una pazza furiosa, un pazzo furioso e vuoi seguirmi in questa nuova pagina della mia carriera lavorativa e vedere un po' che cosa succede e sederti insieme a me sul sedile di questa, non so, sidecar, non so come si chiama quella dove c'è la moto e di fianco quello con gli occhialetti e si va qua in questa NFT Land Web 3 e vediamo che cose riusciamo a combinare i prossimi anni e hai questa visione un po' di lungo periodo e ti piace il progetto e pensi che siamo una bella community, a questo punto questo in effetti absolutely è il posto giusto dove andare a parare. Ci vediamo allora il 2-2-22 alle 2 per il lancio ufficiale, ma ricordati, registrati entro le 12 di domenica, così almeno hai accesso anticipato dall'1 febbraio alle 17, ricordati NFT Magazine e Nemesis, se hai un companion hai anche il 20% di sconto e puoi sempre comprare, basta non ce la faccio più a ripeterlo! Grazie, un abbraccio, ciao!